musica ok siamo arrivati qui e vedo qualcosa laggiù io ma non è proprio sicurissima perché vedete guardate quanta gente c'è toccazzo corre col matto chi è che spara? oddio è pieno di zombie mutanti cazzo oh oh questo è un cappello regà aiuto aiuto ginocchio oh regà io sono cascato come cazzo ci esco da qui? muo oddio ma sei un cazzone come hai fatto a cadere lì sotto? ma che cazzo ne so ma che cazzo tiratemi fuori da qui no no ok Mario Mario un'idea ma tirate fuori da qui per favore eh non abbiamo un'idea ti posso dare i miei poteri per un attimo no 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 sono caduto anch'io aiuto ecco aspetta basta scavare la sentenza ecco 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 ok ok comunque sentenza le tracce portano all'altra reliquia qui vero? si esatto è sempre più potente è sempre più potente oh oh ecco allora questo dimostra che ahia porca troia questo dimostra che c'è qualcosa qui ci sono altri questi zombie non c'erano da esse ah porca puttana ma da dove escono? ok ok allora venite qua che cazzo è qui? se il saggio vuoi far apparire scaraba che cazzo c'è scritto? scarabaluda bab apre un po' la porta apre un po' la porta non si apre la porta è chiudo è bloccato no non ti apre eh non si può entrare lo stesso scarabaluda balup barco cane ma che cazzo lo scelta sto? ha 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 scarabaluda scarabaluda bulap madonna oh mi la può dillo rega allora scarabaluda balapula oh proprio ok fe 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 l'ha detto l'ha detto l'ha detto bene rega sei aperta ok per fai la mia lingua dopo aver detto quelle merdate ti accorgi che non c'è nessuno ah ok quindi ci piava per culo ci piava poche parole ok ci sei qua se un cane ha tre zampe quante zampe mancano ad un cane ha tre zampe? una se indovini con po' di dare il sacro di mario sei un idiota ignorante sei a tre zampe se ha tre zampe il cane c'era quattro mi manca una la disposta è pesce ma perché ma perché ma che cazzo sei oh se un cane ha tre zampe quante zampe mancano un cane ha un cane ha tre zampe quindi zero ma è ovvio vabbè c'era arrivato subito ignorante oh guarda c'è è inutile si potremmo un due tre che cazzo è l'uomo? che cazzo è l'uomo? poffie che cazzo è ma non c'è nessuno silenzio beh che è che parla poffi ahподi fermi 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 ho trovato la reliquia posso mais che è una cosa perché io le sento no ovviamente la cosa va dovremmo chiedere noi però bene no più che altro che ne so magari ecco il recaio non c'è il recaio ma è ovvio questo io non c'è il recaio però che ne so hanno aspettato un attimo che ho trovato dei libri o pure il sito se vediamo da una vita arriva lui zitto zitto e comanda tutto lui che palle ecco fermi fermi qui hai trovato la seconda reliquia te ne mancano altre due e potrai uccidere il cane carlo ma un segreto intrinseco nelle reliquie quello che può uccidere in seco può anche riportare in vita fai la tua scelta per riportare uno spirito dal mondo dei morti bisogna avere due reliquie e inserirle nelle tramogge nel pertugio e conferire la propria energia spirituale attraverso il portale dicendo la seguente formula abla da cadala cicali ovviamente cazzo dei formuli so ma chi ne ha scritte se formule probabilmente dovrà metter a fare la cacca nella mogia ma attenzione lo spirito tornerà ma non sarà aspetta che non ho finito le leggi non sarà completo dovrete completare l'evocazione una volta ritrovate tutte le ciri le reliquie ma come ogni vita che torna una se ne deve andare necessiterà di un sacrificio e coltivo per comunque chi è sentenza vedete qualche cosa brutta io non vuoi fuori niente a niente al riguardo a io non ho preso ma roberto lo pare come libro da dal libro a sentenza ma ce l'ho io per riportare uno stile madonna come è scritto pure male italiano ma chi l'ha scritto e grammaticamente mio dio mario comunque sia non fate cose strane perché io sto bene quindi sto eh c'è il wifi dappertutto libero eh vabbè connessioni dai dai cercate di riportare un terabyte in download allora dovete posizionare le le reliquie dentro le tramogge quindi penso siano queste poi ci devi fare la cacca e dico le parole una e due ok ciao luce ciao luce ma che cazzo sei a di è un po' stessato cercare posizionate qui i confesi ci senti io ho eccolo ho visto pura ho visto per un attimo qui ecco ecco ho capito ho capito dovete mettervi uno qui e uno di qua venite venite qua sentenza qui ok pronuncia la parola la frase sentenza dovrebbe comparire aspetta io ho visto qualcosa che si muove comunque vedete abduklalazikali eccolo oddio non sei proprio bellissimo lo sai foffi ma così un po' pallido c'è non c'è uno spettro che vedesse la pelle o io stavo ero il playboy l'indostavo stavo in un bel posto di vita c'era vuoi fare il libro dappertutto le zoccole da battaglia spettacolare l'indostavo sei un gioiello comunque adesso parliamo di cose serie casco che è una perfezione autoindotta allora intanto tu sai che sei uno spettro non sei proprio che cazzo so io sei uno spettro uno spettro con le mass effect no no uno spettro è bassa eh eh magari ahia ah ma che cazzo è qui uh mi sa che mi ho portato un vita pure qualche altra cosa oltre a foffi eh vabbè però ti sembra divertente sembra panga sembra no non è proprio divertente però a me non mi dicono niente e mi dicono non ti dicono niente no che non esisti sei morto ancora ti ricordo che sei morto ah è vero dei shepard per ormai non ricordo che cosa vedete lo so shepard allora posso curare nello spazio abbiamo scoperto una cosa per poter cioè ti possiamo riportare completamente in vita invece da fatte rimanere soltanto così un po' fantasmino però dobbiamo guarda posso volare posso perchè te lo hai donna in vita perchè così non puoi fare un cazzo sei inutile comunque sei sei morto nemmeno posso volare pure un uccelletto può volare oh duia cioè dopo se sono normale posso più volare vieni comunque allora per riportare completamente in vita dobbiamo trovare le altre due reliquie del guarda te passo pure attraverso del cane carlo a proposito del cane carlo non so se sapete ma cioè stavo guardando al notiziario c'era l'intervista a cane carlo diceva che voleva conquista al mondo con una marea di zombie cioè eh lo so lo abbiamo affrontato più di una volta ma non siamo riusciti insomma a fa nulla ma davvero solo altri ahja autun vuoi dimanere liva papero pipetto novecatto davanti coordinatorine sai dueosters white io non tengo niente non tum tune una sta laggiù клetsons la sentenza e l'altra l'altra sta proprio dall'altra parte oppure la parte opposta di qua lo stanno io verso la casa dimmo quale è quella più vicino guarda proprio presentano le coincidenze stanno la stessa distanza 10 mila chilometri c'è niente di più né di meno è che colpa mia o reti ma invece le sfere del drago ci manca la 2 e la 5 e spera il drago sai come come ha rotto il culo e la 2 da 5 se le prese lui e al negozio con il cazzo quell'altro questo monzo staglia a livello 8 porca puttana io al 2 invece comunque vabbè ho bello ho capito che bisogna incamminarsi ragazzi dai vai forza raga veloce vado a fare soveloci io forza e tu sei veloci si testa di cazzo non è se cattivo porca miseria io potevo rilasciamento stavo stavo meglio ma dopo che uno ti cerca di una riporta in vita questo sono i ringraziamenti e ringraziamento dico solo questo posso volare sono contento e un potere volare per sentenza vabbè si trasporta quello vabbè vabbè ma io posso fuori mortali o c'è un maiale sul greppo guarda il maiale sul greppo questo è il punto di sotto ha lasciato solo due costolette lo poteremo con questa costoletta a